Ciao a tutti ragazzi, sono Den e benvenuti nella undicesima puntata della serie Old. Oggi siamo qui con... Sì, ma ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, stiamo portando giù... questo attrezzo qua che... nei commenti magari qualcuno di voi mi ha già scritto come si chiama, ma quella puntata deve ancora uscire, quindi... non lo so di preciso. Guarda come è dritto a sto mezzo. Sì, Samu lo senti? Sì. Ehm... Ehm... Praticamente adesso magari andremo un pochino a concimare. Però forse non è nel mezzo più adatto, perché io mi ricordo che questo qui si impennava, quindi magari prendiamo molto... No, ne ho scelta, 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 ne ho scelta. Ehm... Ma come è che c'è tipo... Ok, non... Mi taccavano a trattare in mezzo. Come mi siete detto, andrei mi svolto un bel tra voi, e che no. Ma non è che fieni e che imballi a zero allora. A pienare vai bene. Cioè io col mio mezzo... Ehm... Ma non è uguale. No, no, se vuoi andare a falciare, falciare, se no ci vado io, ma si falcia... Ehm... Ehm... Via... Non mezzo, molto più... Ci vuole la presto, un po' più, secondo me. Ma si faccia io? Guardi, mi avrei trovato a farciare un casino. Non ho capito. Ti posso una faccia io? Sì, vai... Ehm... 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 Arquidilla. Dove vai Samu? Di... Eh... Lo spanne con Jim, mi sto fianco a... Al palazzo del gine, mi tiene sì, va bene. Ah, ma con quell'esso vai, allora vai da zero, davvero zero allora. Sto scherzando, volevo solo farti fermare in salita. Sono simpatico, vero? Sì. Posso mettermi che sorta. Come hai detto se vorrei? Sì. A mezzo di rinche bucane. Guardi, dite e poco, mi hanno inizio a farlo. È deputato, dite. Mi perinnen? a vero, mi hanno inizio a fare insieme a fare emozziare in salita. Anzioni di rinche, ma non問i come in salita dei mềui, e anche con un minuto, dei riscontri di riscontri di riscontri di riscontri. dai e trattore non gli piano non ci occorre che vai piano oh ci andiamo i lampeggiati che è le otto di sera che c'è? ma io provavo a stersai ma tutto con l'altra parte ma ce l'hai messa la zavorra io non ce l'ho la zavorra eh? c'è la ce l'ha fissa ma pure quello di impegnate no non si impegnava no destra a sinistra però giuardo a diritto capito? il capitolo alla fine ci vuole il mio è invece di impegno mamma mia impegno ai cartelli facciamo finta che siamo inizibili semmo finto da niente tocca a scala alle marce ecco è uguale si dai una sfresi da nata su mezzo che c'è stava a fa? la porto no che qua poi non ci riesco più no Samu guardami a me no Elia che diceva che andava dritto ho fatto una cosa aspettando l'altro dai la so fatta addecchia paligiri vai a tutto a tutto a tutto cazzo ha pigliato ecco che fai tu che cominciai a rallentare come una bestia io? no mi hai pigliato un dosso mi hai pigliato un dosso mi hai pigliato un dosso è apposto bisogna essere svelti con questo cambio a scalare la mezza e cambiare marcia almeno cambi solo mezza marcia e ce la fate no? non ce la fai lì su che? che com'è tu cadagno? eh Samuè adesso si è piccato con l'unione da te occhio oh yeah sei lì aspetta grazie siamo piccoli pari così ci vedi meglio che non va avanti troppo muopa dove c'è stato? allora piccoli eh no me la gadde che te sei caschese le palme diciamo ti consiglio di mettere una marcia bella corta che faccia massimo 14 allora perchè più di quello non ti consiglio di andare perchè poi quando sei in discesa il trattore ti escivolo ecco ok mi sento lì ieri del mezzo non sento lì ieri del motore dico eh amplifon eh punto eh stavate stavate vogliamo parlare di mio zio che abita nella casa a fianco a me che che stava a tre stava a tre giri? a tre giri a minuto? a tre dei volumi c'è mio zio che c'è mio zio che quando deve mettere la macchina in garage no? fa scendere mia zia che gli apre il portone lui è sordo quindi non si accorge mette il piede sull'acceleratore si appoggia lì lui non se ne accorge ma tipo schiaccia l'acceleratura tutto e ogni volta c'è mia zia che gli dice oh ma questi fè pronto mi si è incastrato tutto che ho fatto ecco che stava a fare? no quel piccio non potevo montare aspetta ah samuel guarda come stava bene 5900 di ping ma che stava a fare? si è crashato eh? nooo ma perchè 6.000 di ping? perchè sei crashato va bene ragazzi direi che ci risentiamo appena riavvio il gioco ok ragazzi riaccomi tornato abbiamo sprecato 6 milioni di litri di concime perchè Elia mi ha appena detto che io per tutto il tempo che sono crashato ho lasciato lo span di concime acceso e quindi qui possono partire germano mosconi compilation tour 2018 e facciamo anche già partire quella di ehm 2019 la nostra estate italiana la nostra estate italiana come cacchio senza di acqua io ehm come mezzo come mezzo qual'altro vado qui ma che è stato come diciamolo lì chettaro che è che c'hai che c'è la fatta burrini che ti passa? mi passa la matisaca sotto casa allora ranghina vabbè erco e fa le valle poi samu fa le valle proprio te ci vedo a te ahahah già c'è Simo che Simo una persona calma no? ehm mica tanto no no ma Simo una persona calma se ci mette quando c'è stata fa che cosa se ci mette con la calma ma la testa ma l'altra sera un'allora c'è stata tutta la sera non ne poteva più beh e cosa ti ha pensato di domanda a me è sempre rosa tutto ecco come mondo è ma c'è la gps Simo? no e mi mette la no 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 me 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 allora mette la guinda e mi sa ahahah va 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 la quarta 2000 ieri e allora e non c'è la quarta e mezzo su quel trattore non c'è la quarta e mezzo no e che marcia è? metti la L peggio metti la terza peggio peggio mi sento oddio tre ruote avanti anzi la cosa più bella di 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 sta mappa è che quando finisci un lavoro come ripagamento al duro lavoro è che puoi buttarti giù dalla collina 300 all'ora ti fallo matto non c'è la quarta no no che è il mio esericato contro il cartello per favore avanti vabbè 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 io ti tengo però mi piace vabbè 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 hai himma fornito vabbè ma vabbè cadere io piccolo no andò al capotare andò ieri ammollo quando andò mandorlo si muovono anche alle qualità del pacchetto non c'è da vado, siamo anche sporcati un pochettino No grazie, vi vedo l'offerta e vada avanti Eh? No, c'è questa mura, eh ti che vuole l'offerta, vi vedo l'offerta e vada avanti Tempo di elaborazione Dieci minuti perdendo Che piatta da sei come elaborazione Aspetta, bono Bono Io mi metto a ranghinare perché a me ranghinare piace Non ci vuole perché a me bloccare non mi piace Ci mettiamo Grego, Grego, Bocca, Grego ci sta la festa Bello, Bello, che mezzo me dai, 288.10 Ah, 5 No, lo vado, lo vado, lo vado Grego, lo vado, lo vado Grego, lo vado, ma voglio, lo vado Disporto, l'anno E lì Eh, dopo ci proviamo a mettere 7810 sotto la pressa Vedere il rispetto Si, dopo, non riesco a seminare Si, si, dico dopo Mettiamoci quello A meno, cosa c'è che devi da fare quando vuoi Vio Qui nel suo E due le voglietti capito E' bella sta parte di giro Ma io ci sto prendendo gusto tutta mappa, pare che abbiamo solo un campo Eh, siamo riusciti a cambiare mezzo, ti insomma Forse è l'unica serie che stiamo facendo soldi in modo decente C'è, non portare la roba, invece, non siamo venuti qua cibo In teoria, da quello che mi ricordavo Spaggia, monzacco e roba dove si lascia 10.000 qua, 22.000 de grano e de orzo Meglio cos'è Lo friziono un po' Che c'è sta da fare Va' a spaccare una frizione Stage 6 Si, ma slitta un po' Parca miseria No, 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 no Che mi danno il coper Ok C'è questa fa 13.5 Lo tiro a tutto Proprio a 2.400 giri Poi cambia 13.6 C'è la cosa più inutile del mondo Cambio marcia quanto mi fa di differenza 0.1 in più Vabbè Non mi ha sa cosa, però, vabbè Siamo anche a te che Grego, porca miseria Te sono le tue bocca, bocca che c'è sta da bocca C'ha fatto E poi saluta perché siamo in puntata Tu bocca C'è tutti C'è un lavoretto per... A te piace, a te piace pressare, Grego Sì Eh, poca C'è tonde No, quadre Parca Con la pressa della hold, dai Poca Ti diverti, i tamburini ha fatto... Che era ieri sera Tamburini L'altro ieri sera, vero Simo, che era divertente Arrivamo Arrivo, eh Arrivano No, no, presso gli versi io Siete fuori No, no, fa pressa a Grego Io, io spero, lo sai, ecco Lo vedo No, che pisci tutto quanto No, 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 non penso Eh, solo la fuel, la Mike, sembra la giornata Ok, lascarico Grego, teppi Guarda, se vuoi ti faccio anche per rendere il New Holland Per andare a falciare, giusto perché sui tu è perché sei bravo Ti do un trattore abbastanza potente perché Che vuoi che poi Anzi, estremo con la destra, hai già prestato tu Grego Ma quando Ma il pieno, eh, non la paglia La paglia non ci occorre Facciamo prestare il pieno Almeno noi ci facciamo Le canne, capito? Le canne Le canne Ora, per farvi vedere la difficoltà che ci avevo messo io per falciare sto campo All'altro senso Facciamo in un attimo Facciandolo nel senso opposto è riuscito Ah, adesso scartiene Tu le hai falciato in senso anti-orario, vero? Oh, ma... Eh, dipende Cioè, come sto ranghinando io, l'hai falciato per l'altro verso Come sta ranghinato? Allora, ero al mezzo Io c'avo questo mezzo che c'ho io Questo mezzo che c'ho io va bene per ranghinare Perché la pressa non si ci attacca La colla neanche La falciatrice lì ho bestemmiato in cinese per riuscire a falciare aggescentemente Troppo, sono andato da un madrelingua cinese e pom pom può accompagnare solo Ma poi, cambia 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 Non ci occorre cambiate Cambia Cambia Assera Crea o poca Che c'è da fare Veloce Veloce Capito Ci sta la pressa Che c'era fa Andò Capito Andò Molto Ma che tratturi tu c'è sta Prendi quello che vuoi prendi qualsiasi trattore vuoi metti sotto la pressa e vieni qua Sopraccampo 4 Ford Ford Greco Hai visto che abbiamo cambiato mezzo Greco No Abbiamo uno nuovo Mamma mia E' quello che si apponta se gli vai avanti No E' quello che non c'è sta tanto con lì ieri perché ogni tanto sfolla Tu sei lì che Tu sei lì che Che l'amore cambio senti che ti dice il motore Ti aveva visto che l'ho mandato? No Ti ho portato scaricando per troppo lungo quindi ho detto Chi se ne frega La presa non te la porti? E' da stala E' da stala E' da stala E' da stala Stala Quasi C'è Simo che secondo me ho una voglia di pressare che a fa gara tra greco e simo che c'è più voglia simo il camarone la falsa del gioco questa calda ti sta ridicata ah no 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 che io sappia no è come quello originale io devo andare a carcare forbici giusto perchè Samu non ha contro l'f12 attivato se no te l'avrebbe fatto aspetta che mi lagga aspetta che mi capotto aspetta aspetta chi è che è passato davanti alla porta come facciamo la liguetano si è malamolo mezzomia ma più precisamente dove si spaccia sopra il campo 4 sul campo capito capito no sopra porto devi e solo 4 ma certo che ho capito capito poi c'è io topi non ho capito fammi vassa prima me che c'è io la precedenza no io so sferdo avanti pam che definita fa a posto adesso è incrastato chi? tu? mi? 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 poi ma sto facendo the world 70.540 un campo? un campo a via the cario guardati ieri sera un campo un corpo 2 mi segnate le pette mico alle ericchie allora e la camere questo viene no venda vos venda a barretano no 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 dal prof prova prova allora questo qua la paglia, la paglia alla erba la erba pura come dice a bocca a posto adegu gli accampi e vengalo abbiamo quello che ha fatto ma se metto 37 allora dovrei avere un mondo aprile al l'estate h attacca del piaudone ma tecci po ad essa la mista la barra dalle loro imposta cultura nel nuovo questo il campo numero abbiamo detto 7 coltura questa è sogliane credo di sì crescita seminato cresciuto fertilizzazione 90 per cento del fertilizzazione poi smelto per te domenica arato il vento eseguito moca e mi ha fatto forse devo prima comprarlo troviamo perchè interia sta cosa è molto utile arato si mia funzione ma funzionerà solo in single player asimo si passino sepporti sto madonna attraverso mai costo canaro ma non funziona aria sta pataiaio pratiche del tempo di nuovo non tu vero stavolto capito invece di quando c'è aspetta campo 7 arato mondo che me ne frega 90 anni esegui ma non funzionano sepporti ma il 4 è la carità vabbè lo coglieremo 4g che quattro cosa non ho capito era già nostro no aspetti non mi sono sbagliato a dirlo si vede perchè 7 sono sicuro di averlo fatto ma quindi c'era sfalciare il 4 a 7 sopra il 4 che? ah ok il tx e 4 e 61 no io ho il 6 e 31 rds è un po' stafena rds dx rds questa notte questa notte questa notte nostra stupoda cantoni figa eh simo se vai di fianco allo shop ci sta quelle quelle da dai vestiti facili greco si dice facili costumi se vai dai vestiti facili dai facili eccoli da dai vestiti facili vicino vicino allo store si ci sta guarda simo come corre ci sta ci sta ci sta le droghe ma davvero ma che dici ma davvero c'è questa che attraversa dentro un muro lo cazzo vai perché gli piace un odore ma ecco ecco hai capito come i muori salve voi possiamo guardare questa se brutta uguale ancora che non depigna ma voi avete mai fatto caso che loro vi seguono tipo vi guardano seguono la testa in modo dove andate voi c'è sono come si dice non ossessivi o proprio se sono servi oh grego dai e io staccare a tavola per me che non fa che da fare martin bocca e da una massimo tre allora fa 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 s pericolata a papà pericolata papà pericolata pericolata no faccia presto io ho preso il cittadale attaccare è detto che devi fare il tuo nome il suo rimorso il mio amico c'è la mia ecco che è la caglione dei tigre che passano a bb avanti mette a tutto Non devi schiacciare il 3, devi schiacciare la W Ah, non so se è una cosa Magari non lo sapete Con la gearbox, se schiacciate il 3 Non me lo fa attaccare Che cazzo ho dato la merda già Con la gearbox Zitto, zitto, ho messo la L1 Sta zitto, levati, levati Mi scordate un attimo Se c'avete la gearbox E mettete, schiacciate il tasto 3 Invece che Andare al massimo Vi va un pochino più piano Allora, non va a tutto Perché tipo come se mette la frizione Invece di mollare tutta la molla per l'80% Se ci bei caso lo dici Comunque ragazzo, direi che per te la puntata La battaglia, la battaglia Non è possibile la battaglia Io vi ringrazio tantissimo per la visione Da Adem Grego E' tutto, ciao a tutti Ciao a tutti